scende il calcioletto di partenza 2-8-2 Mattia Colombo al comando Besnate si salta nella categoria G5-G6 e allora Colombo anche in finale cerca l'allungo immediato sulla tabella 357 in mano è il trombetta per l'onciate Comasco in terza posizione l'atleta del Garlate e allora al proprio con l'in prima posizione Colombo